amici di youtube ben tra i da marco liquori avviso importante quando questo video dovesse superare i 300 like ne pubblicherò immediatamente uno nuovo lasciate il vostro piace adesso per avere subito online un nuovo video di marco liquori amici di youtube ci siamo quasi mancano appena quattro giorni a sanremo sanremo 2020 tra qualche giorno seguiremo e documenteremo la manifestazione canora più famosa d'italia e soprattutto rivedremo albano e romina insieme nella manifestazione griffata amadeus non stiamo nella pelle non vediamo l'ora di ascoltare albano e romina intonare raccogli l'attimo canzone che ha scritto per l'occasione cristiano malgioglio staremo a vedere quello che succederà fatto sta che albano e romina sono anche una garanzia di business e marketing che permettono e permetteranno di vendere il prodotto festival di sanremo anche all'estero albano e romina sono molto amati sia nei paesi latini che nell'est europa e quindi amici youtube quella che si appresta ad iniziare è davvero una uno spettacolo una manifestazione che sicuramente susciterà il nostro interesse e albano e romina in questo senso sono una sorta di ciliegina sulla torta amici di youtube scrivete nei commenti cosa ne pensate di albano e romina a sanremo e soprattutto scrivete se guarderete sanremo non soltanto per albano e romina perché comunque sia questo oltre ad essere il sanremo di albano e romina è anche il sanremo delle polemiche la polemica principalmente la querela che è stata fatta ad amadeus soprattutto per il controverso brano di junior calli un brano in cui pensate si parlava addirittura di femminicidio quindi un un sanremo molto promettente dal punto di vista dello spettacolo ma nato sotto la stella della polemica staremo a vedere cosa ne uscirà fuori i presupposti sembrano davvero interessanti sia nel bene che nel male c'è tanta carne al fuoco iscrivetevi al primo canale di marco liguri e seguitemi sui social pagina facebook albano carrisi fan club instagram marco liguri 7 vi ricordo ancora una volta che qualora questo video dovesse superare i 300 like ne pubblicherò immediatamente uno nuovo amici youtube aspetto i vostri commenti il commento più bello che risponde alla domanda albano e romina a sanremo voi cosa ne pensate e soprattutto cosa ne pensate delle polemiche con cui è nato questo sanremo aspetto i vostri commenti con trepidazione il commento più bello sarà letto in diretta ciao a tutti